E' con Federica e Simone, moglie e marito. Ciao, sono Federica, ho 42 anni, accanto a me c'è mio marito. Ciao, io sono Simone, ho 42 anni, siamo insieme ormai da 11 anni. Ci siamo conosciuti durante una breve ragazza in stile a Polizia, che stanno con un gruppo di pubblici. E' da me la spaventare di andare avanti con la nuova, con i figli, con la nuova di canzoni, insomma, tutto quanto per lui. Siamo una bella famiglia, ma è divertente che il nostro successo è il fatto che ci separiamo molto spesso, perché io faccio l'assistente di uro e sono sempre poi, per voi, intersontimentali. Io invece faccio il procuratore di calciatore, quindi spesso vado a fine settimana fuori per vedere partite, in giro per l'Europa e solo. Grazie ai nostri viaggi abbiamo preso ispirazione per il nostro menù, che in realtà non è un vero e proprio menù etnico, ha più una tutta mia azione. Ma che belle coppie, ragazzi! Sarà veramente una sfida molto stimolante, vedrai. Eh, non penso anch'io. Vediamo che succede a casa, non ci vediamo. Sì, non ci vediamo. Sì, non ci vediamo. Sì, non ci vediamo qualche cosa. Hey, sì. La sovaglia… ...a fiore, come tutto il resto. Mi encanta. Le verano le bianche… …perfetto. Come diamo? bellissima ha dimenticato anche quella bellissima